Il benessere si calcola in tanti modi, sicuramente ci vogliono i soldi per arrivare alla fine del mese, sicuramente se hai qualche soldo in più oltre che arrivare alla fine del mese può aiutare, sicuramente il benessere passa attraverso il funzionamento efficiente dei servizi pubblici, sicuramente il benessere funziona attraverso le industrie, ma il benessere funziona soprattutto se rimani umano. A Napoli non si fanno calcoli ragioneristici, aritmetici e matematici per calcolare il benessere, il benessere passa attraverso anche l'immergersi in un vicolo, nel frequentare la sera le strade della nostra città piene di giovani, vedere il mare, vedere l'umanità delle nostre periferie, vedere la capacità di riscatto di un popolo che viene messo sempre nell'angolo, vedere la città col più alto numero di bambini e di giovani d'Europa, con un numero di iniziative culturali enormi, con un'esplosione di energie liberate in tante parti della città, nell'autogoverno, nell'autogestione, nel voler stare insieme, nel riscoprire un uomo umanesimo, questo anche benessere. Io credo che le emozioni rappresentano la principale dorsale del benessere, io ho vissuto in città che stanno ai vertici delle classifiche per capirci alla sole 24 ore, ma funzioneranno anche alcune cose in modo meccanico sicuramente meglio rispetto a Napoli, ma io non è che ho percepito un senso di benessere, quindi io credo che il benessere è molto molto individuale, noi lavoriamo perché ci siano meno disuguaglianze, questo sì, che ci siano meno sofferenze, che ci siano più qualità dei servizi, ma Napoli sta molto avanti di quel centunesimo posto di cui si vuole descrivere, ma poi non è questo il nostro obiettivo di scalare classifiche, il nostro obiettivo è far vivere sempre meglio i napoletani che decidono di rimanere nella nostra città.